buongiorno sono le 7 e 20 di lunedì 27 gennaio oggi è il giorno della memoria ci sono i germi del palco del grande carlo Siamo subito a bere il zucchino Oggi com'è? Pesca Pesca come sempre Pesca La prima si deve agitare Perché sennò poi è più brutto Poi adesso è pronto all'uso Usciamo dalla macchina Oggi ho lezioni fino alle 4 del pomeriggio Sei impossessata della mia macchina Sei stupida Questo sticker nella mia macchina Così? Sì, più o meno Tutto storto Perfetto 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 Arrivederci Perfetto 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 Grazie a tutti.